La tendenza primaria è il gioco degli opposti, beh cosa c'è di opposto come i fiori, i fiori che rappresentano il massimo del romanticismo e invece non so le borchie, le impunture, ecco tutti questi particolari che invece sono più rock, sono più forti, sono più grintosi, ecco lo vediamo nelle due linee di Alberto Godi, cioè sia Alberto che 181. Il fiore che lo abbiamo sviluppato e sta piacendo molto sul mio cassino e sul tronchetto alla caviglia, in contrasto poi ci sono le borchie, la 181 si affaccia ad un pubblico più giovane, il tema delle impunture a contrasto su queste vernici dai colori molto accesi.